NETIT è un Digital Innovation Hub del nostro territorio catanese, lì abbiamo sviluppato una progettualità su più fasi, su più step. La prima progettualità riguarda attività di servizi BPO e contact center per grandi aziende, quale IMSS, Enel e altre aziende con le quali in questo momento stiamo erogando servizi di BPO e di contact center. Progetti per il futuro riguardano lo sviluppo, l'ampliamento del Digital Innovation Hub, noi contiamo ad essere volano per il nostro territorio, non vogliamo soltanto continuare a far salire i ricavi della nostra azienda e la capacità anche di avere ulteriori persone impiegate nella nostra progettualità ma vogliamo essere volano per altre idee innovative ed è per questo che appunto proviamo ad attirare idee e a svilupparle all'interno del nostro hub, del nostro ecosistema. Lo stiamo facendo anche prossima settimana, quindi ai primi di marzo, lanceremo la prima Call for Ideas nazionale, questa lo facciamo in collaborazione con quattro aziende su tutto il territorio nazionale e addirittura con il cappello nazionale di Asso Contact che sta appunto partecipando a questa bellissima iniziativa.